L'ormai ex assessore comunale Pietro Miraldi risponde con una lettera al primo cittadino di Vallo della Lucania, Tony Aloia, e scrive Ho ascoltato con attenzione il suo intervento negli studi di SET TV e la ringrazio per le tante cose che io so, ma vorrei ricordarle anche le tante proposte in questi due anni e mezzo di mio assessorato a servizio dei cittadini, scrive Miraldi. Una lunga missiva nella quale continua dicendo non sono d'accordo ancora una volta, le dirà non si può votare no in giunta, le ripeto che metodi bolcevichi non mi appartengono e le ricordo che in fondo ho votato no solo e ripeto solo due volte. La prima la delibera riguardante i lavori di strada Garibaldi, anche lì una proposta già bella e pronta e soprattutto con una minore entrata per l'ente di circa 60.000 euro. La seconda e l'ultima è quella del 2 gennaio ultimo scorso relativa alla riorganizzazione dell'ufficio tributi e ragioneria, guarda caso di mia competenza. Proposta da lei appositamente trattata per prima perché conoscendo il mio voto contrario in tal modo non mi si dava la possibilità di votare contro alla successiva proposta di riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele. Quindi Miraldi precisa, tra le tante cose che so, però non so perché, nonostante da circa un anno è pronto su mia proposta il bando per l'assegnazione del centro espositivo, ancora non so perché non si proceda ed è chiuso in un cassetto e non so perché si rimanda sempre la stesura di un nuovo piano tariffario dei rifiuti. Più volte a lei e all'intero gruppo ho fatto notare che i cittadini possono risparmiare per dei servizi che non ricevono, come la consegna delle buste per l'organico, ma anche in questa occasione sono stato dichiarato diffidente. Quindi la stoccata finale perché la lettera di dimissioni che l'avevo consegnato e che non ha letto conteneva il mio disappunto per il modo di fare politica e soprattutto la scoperta che essendomi candidato con Aloia sindaco mi ritrovavo invece un ametrano primo cittadino.